Ed eccoci qua, bentornati alle fonti Closing Bell, sono esattamente le 16.35, adesso naturalmente andremo ad approfondire tutte le notizie principali di questa giornata. Partiamo naturalmente della sospensione del vaccino Johnson & Johnson, almeno negli Stati Uniti perché è abbastanza importante anche per l'Italia. Siamo in compagnia di Gianluca Codagnone, Managing Director Fidentis. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi Gianluca. Buon pomeriggio. Innanzitutto vorrei partire con una domanda abbastanza semplice. Dopo questa sospensione naturalmente perché è importante per l'Italia? Perché sono in arrivo un bel po' di vaccini questa sera, circa 184 mila le dosi che dovrebbero arrivare in Italia stasera. Ti preoccupa questa notizia o meno per quanto concerne la campagna vaccinale italiana? Sappiamo che il target di governo e 500 mila dosi al giorno entro fine mese. Diciamo che J&J era uno dei vaccini su cui si contava perché tra l'altro è monodose e quindi per il futuro avrebbe avuto una certa importanza. L'FDA ha rintracciato dei casi molto simili a quelli che sono stati rintracciati in Europa su un vaccino di tecnologia molto simile che è quello di Astra. Sono due vaccini adenovirali. Ovviamente quando si ritrovano questi casi si sospende per un'investigazione esattamente come ha fatto Lema. L'FDA sta parlando adesso come dicevi prima tu e credo che entro pochi giorni diranno qualcosa. Sul numero di casi che hanno trovato che sono solo 6 per milione, uno per milione scusami perché sono 6 su 6 milioni di J&J somministrati. Non ci farei molto caso perché queste cose come si è visto anche qua in Europa le trovi quando le cerchi. Anche in UK sembrava non ci fossero, poi ci sono trovate e soprattutto le vedi dopo, a meno su Asta si vedono dopo due settimane dalle somministrazioni. Quindi bisognerebbe avere tutto lo scheduling di J&J per capire quando entrano le due settimane sulle varie cohorti che sono state vaccinate. Insomma se un regolatore si ferma non è che lo fa a cuore leggero, sapendo tutti i problemi che causa di vaccine hesitancy eccetera eccetera. Quindi sono cose che non si fanno così per farle, si fanno perché evidentemente su certe sottopopolazioni si percepisce un rischio e si cerca di capire su quali per eventualmente limitare l'uso di quel vaccino alle popolazioni che non sono afflitte da quel rischio. Ora vorrei parlare anche della situazione in Italia. A tuo avviso il target di governo che siamo comunque ancora lontani dal target di 500 mila vaccini al giorno è fattibile o meno? I target, qualsiasi target abbiamo di vaccinazioni, dipende da quanti vaccini arrivano. Adesso io non vorrei sembrare un po' banale ma è anche abbastanza ovvio che se ti consegnano 9 milioni di vaccini in aprile, siccome ci sono 30 giorni, se la matematica di base non mi falta, come dicono in Spagna, è un po' difficile fare 500 mila vaccini al giorno, se al massimo ne puoi fare 300 mila. Quindi tutti questi proclami che vediamo, poi dipendono da quanti vaccini vengono consegnati. Quindi che ti devo dire? Non pare che sarà possibile per aprire. Ecco, questo punto è abbastanza importante. Abbiamo visto tra l'altro, l'ultima volta che ci siamo sentiti era prima della fine del trimestre, è stato un trimestre di grande successo per l'equity europeo, in particolar modo Piazza Affari che è stata la regina delle borse europee. Che cosa ti attendi da questo secondo trimestre in vista delle difficoltà che comunque continuano? Perché uno magari si aspettava una organizzazione migliore a livello di distribuzione come minimo? Io penso che da ora in poi bisognerà vedere un po' tutto questo re-opening trade che c'è stato, se può continuare o meno e questo dipenderà molto dall'efficacia dei piani vaccinali e dalle strategie vaccinali e penso che molti avranno l'occhio sull'esperimento che è stato fatto in UK, che è stato quello di vaccinare orizzontalmente praticamente a una dose e molta più gente, vedere se i vaccini resistono alle varianti e anche una dose resiste alle varianti, cioè ci sono un po' di question marks, il mercato è salito intanto, penso che se devo guardarla più a lungo termine la tecnologia vaccinale mRNA aiuterà parecchio e se non è questo quarter sarà quello dopo o quello ancora dopo e quindi cioè in qualche modo se ne uscirà. Non so dire se, non so mettere un time frame preciso a tutto quanto, però penso anche che da un punto di vista valutativo se siamo in ritardo di un quarter o due quarter è difficile che il mercato ne risenta più di tanto, cioè non mi aspetterei che dei business vadano disrupted per un quarto di ritardo, poi invece ci sono dei business che vanno disrupted ma anche se i vaccini fossero estremamente efficaci andranno disrupted una volta che verranno meno le protezioni governative tipo le moratorie eccetera eccetera perché ci sono stati dei trend che hanno accelerato durante la pandemia e per cui certi business verranno proprio messi fuori gioco. Vorrei parlare di un altro argomento, i dati macro, oggi abbiamo visto l'inflazione, l'indice dei prezzi al consumo americano, la CPI in rialzo dello 0,6%, questo naturalmente a livello mensile e su base annua abbiamo un rialzo del 2,6% rispetto alle stime del 2,5%. Ora il mondo della finanza è leggermente diviso e cioè ci sono quelli che dicono naturalmente che ci sarà un'inflazione ben sopra le stime della Fed per un bel po' di tempo e gli altri che dicono che non c'è motivo di preoccupazione sotto punto di vista naturalmente inflazione e pressioni inflazionistiche, tu da quale parte stai? Ma io diciamo che per adesso sto guardando in maniera un po' critica perché non è che mi sia fatto un'idea precisa, sarei molto sul periodo però di vedere l'inflazione a livelli diciamo d'anni 80 o 90 per non parlare degli anni 70, cioè io credo che per adesso come tu dicevi è vero oggi è uscito 2,6% però frutto di un più 9% dei prodotti petroliferi, se lo si guarda al netto dei prodotti petroliferi inflazione core è a 1,6% annuale, quindi diciamo sarei parecchio, è chiaro che all'inizio dopo una recessione è un rimbalzo indotta dal SARS coronavirus e un rimbalzo che potrebbe essere anche violento è possibile vedere degli spike inflazionistici di qualche mese, che questo però dopo si traduca in un'inflazione in maniera persistente più alta secondo me è un po' difficile, le curve comunque si sono riposizionate a riatt dei bonds, si sono riposizionate un po' più in alto, si sono anche un po' irripidite, non mi aspetterai niente di paragonabile agli spike inflazionistici del passato, quello mi sembrerebbe molto strano. Ok, questo era un punto importante da capire perché naturalmente non sempre ecco questo rialzo dei rendimenti che hai appena menzionato è legato allora alle pressioni inflazionistiche, intanto siccome stavi parlando dei rendimenti focalizziamoci un attimo sulle politiche delle banche centrali, vorrei farvi vedere questo grafico, naturalmente queste sono le ultime 4 settimane per quanto riguarda sempre gli acquisti della BCE nell'ambito del PEP, ora il nostro titolo dice PEP la BCE riprende a fare sul serio, naturalmente qui c'è da scoprire se ci andava come dici te un question mark, ovvero una domanda alla fine, perché? Perché vediamo che la settimana precedente di quest'ultima c'è stata una diminuzione piuttosto importante, se vogliamo dire sono stati dimezzati, adesso quest'ultima settimana sono aumentati con una media di 3,7 miliardi di acquisti settimanali. Questo a tuo avviso corrisponde alle promesse della BCE di Christine Lagarde che abbiamo sentito circa un mese, una settimana fa di acquistare, di aumentare notevolmente in maniera significativa gli acquisti di titoli di Stato nell'ambito del PEP o meno? Allora io penso che le banche centrali quando devono esercitare la funzione di controllo sui tassi e i meccanismi di politica monetaria possono fare svariate cose, una delle cose che possono fare è indirizzare le aspettative di mercato comprando di più o di meno in certi periodi, diciamo essendo più o meno aggressive nell'ambito del PEP in certi periodi. io credo che qui la banca centrale europea abbia accompagnato il rialzo dei rendimenti comprando in maniera un po' meno aggressiva e che questo abbia dentro una componente di signaling, cioè che la banca centrale è pronta in caso di spike inflazionistici a lasciare andare la curva al rialzo per far capire agli operatori che non è per niente d'accordo nel vedere un'inflazione che sale troppo rapidamente. Dopodiché il target inflazionistico della ECB è il 2%, noi siamo ancora largamente a di sotto, quello che secondo me loro cercano di controllare è la velocità di risalita, cioè non vogliono apparire behind the curve, cioè l'inflazione degli scapi di mano in maniera incontrollata, questo è un po' il senso di quello che vedo io nel modulare un po' gli acquisti, poi onestamente non starei a guardare gli acquisti di una settimana o di due, perché quello può dipendere da mille cose, non ultimo anche quanti bond scadono in possesso delle ECB o le cedole eccetera eccetera, per cui non starei a focalizzarmi troppo su dei dati singoli. È sicuro che l'ICB ha sempre detto che ammetterebbe anche che l'inflazione scappasse oltre il 2% per un certo periodo di tempo, visto che c'è stato undershooting sotto al 2% per così tanto tempo, per cui io poi non sono un grande fan dell'inflation targeting, francamente, ma non è una cosa che piace, non vuol dire niente secondo me, abbiamo avuto grandi periodi espansionistici anche prima del Novecento con inflazione zero e ancoraggi delle monete all'oro che dipendono dai tassi di produttività, per cui per me tutto questo inflation targeting non ha un grande significato, però visto che c'è, dobbiamo ballare con questa musica, lo faccio anch'io e quindi lo guardo, però onestamente non credo che l'inflazione, l'inflazione ormai soggetta a talmente tante forze che è difficile che una banca centrale riesca veramente a indirizzarla, può agire quando scappa di mano sui tassi e restringe l'attività economica e quello la fa scendere sicuramente, ma che la riesca a mandare dove vuole lei è una cosa che proprio non mi convince diciamo. Ecco, quindi giusto per chiarire il punto, quindi non bisogna aggiungere una domanda al nostro titolo, la BCE riprende a fare sul serio, giusto o meno? Ma no, sì, la BCE ha sempre modulato gli acquisti settimanali in tanti modi, cioè non è che sia un metronomo che va sempre alla stessa velocità, l'hanno sempre cambiata, dipendono da mille cose, anche dalle condizioni di mercato e gli operatori, se c'è abbastanza domanda senza ICB, francamente non starei lì a concentrarmi su un dato. Ottimo, invece a che cosa è dovuto a tuo avviso questo appunto aumento, rialzo dei rendimenti? Stiamo vedendo comunque sia lo spread tra il BTP e Bund, ma anche il decenale italiano in lieve rialzo, per esempio il decenale è a 0,75, lo spread tra il BTP e Bund a quota 105 punti basi, io ricordo che eravamo stabili ben sotto quota 100, giusto per essere chiari, questi sono già qualche basis points in rialzo, a che cosa è dovuto o è semplicemente i soliti movimenti di mercato? No, sono i soliti movimenti, poi quando salgono tutte le curve, ovviamente la parte di peggior qualità, cioè noi la Spagna, tende ad ampliare lo spread, quando scendono lo stringe, sono meccanismi abbastanza automatici, sono ancora tassi a livelli bassissimi come numeri assoluti, il decennale tedesco è a meno 30 basis point e quello italiano è a 75 basis point, cioè parliamo di numeri veramente bassi e che non sono in grado di fare, cioè se andassero uno a 0 e l'altro a 110 non cambierebbe fondamentalmente niente, data la duration del debito italiano, quindi non ci vedo, cioè è un po' come leggere i fondi del caffè, ognuno ci vede quello che vuole, nel senso, per me non c'è niente. Quindi giusto per concludere anche questo trimestre, come dire, gli investitori saranno focalizzati sull'equity, visto appunto l'assenza di rendimenti sul mercato obbligazionario? Sì, secondo me adesso il mercato, diciamo, allora da quando è sceso nel marzo 2020 e poi è risalito, adesso diciamo siamo a livelli quasi pre-covid su tutti i mercati, a questo punto il tema è vedere quanto queste quotazioni siano sostenibili, nel senso quanto l'attività economica si riporti verso la baseline pre-covid e soprattutto che business, se parliamo di singole azioni, si porteranno a quella redditività, perché qualche business indubbiamente sparirà. E lì a questo punto, dopo che c'è stata questa specie di marea che ha rialzato tutto, la differenza la faranno, la farò lo stop picking, secondo me, cioè la farà la capacità di scegliere dei business che nel nuovo environment possano competere meglio. Contando sul fatto che, cioè il mio scenario base è che comunque difficilmente, faccio un esempio, difficilmente io vedo i viaggi di lavoro ritornare ai livelli pre-covid, perché ormai ci siamo tutti abituati, anche io e te ora, a fare delle cose video e abbiamo capito tutti che funziona lo stesso, cioè non c'è bisogno di… per cui tanti viaggi che si facciano per fare dei meeting in presenza, secondo me, non tutti, ma una buona parte non ci sarà più, per cui ci saranno dei business che dovranno essere ristrutturati. Da qui in poi, secondo me, anche sulle azioni, diciamo, ripeto, una volta che si è recuperato diciamo un livello del mercato compatibile con un'economia che funziona, si è riaggiustata e funzionerà anche con il covid in giro, con vaccinazioni ogni anno, eccetera, eccetera, bisognerà vedere chi potrà sostenere questi livelli di prezzo. E quindi torna allo stock picking, detta proprio semplice. Ecco, allora tu hai appena menzionato che va benissimo lo stesso anche in collegamento Skype o Zoom, intanto noi estendiamo un invito di persona appena tu sia vaccinato. Ma una domanda, ti vaccineresti con Johnson & Johnson e AstraZeneca? No, assolutamente, sì. Ok, perfetto, questo è un punto importante perché ci sono state tantissime persone che in Calabria in particolare e Sicilia che si sono rifiutate ad essere vaccinate con AstraZeneca. Vabbè, ma lì, insomma, i rischi, cioè quello che bisogna allora, è un po' complicata perché c'è un rischio che mi vaccino o prendo il covid, questo è il rischio, francamente con abbondanza di vaccini ci sarebbe da comprare il rischio di un vaccino verso un altro anche. Allora, se ci fosse una scelta è ovvio che tutti farebbero i vaccini che hanno mostrato meno eventi avversi, qualsiasi essi siano, sia, diciamo, eventi avversi da vaccinazione, reazioni avverse normali, no, febbri, eccetera, eccetera, quelle cose che conosciamo, sia l'evento avverso, diciamo, quasi letale o letale che c'è stato nel caso di alcuni vaccini e che, peraltro, bisogna essere chiari, una causazione diretta ancora non è che sia stata proprio provata. Quindi, però, rimangono dei rischi infinitesimamente più bassi di quelli che corri anche in termini di condizioni di salute di lungo termine rispetto a prendere la malattia. Quindi, francamente, non mi sembra nemmeno una cosa da discutere questa qua. Assolutamente sì, concordo che i benefici sono ben più rispetto ai rischi, poi c'è da dire che a livello di comunicazione, un po' la comunicazione per quanto riguarda AstraZeneca è stata caotica, su questo anche non ci sono dubbi. Intanto ringrazio Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentis, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata, buon proseguimento. Grazie a te.